Per tutta la vita Vren Grai non ha fatto altro che compiacere i genitori, fino a far coincidere i suoi desideri con i loro. Ma ora che il giorno del diploma si sta avvicinando, Vren si rende conto che qualcosa è cambiato on day, che forse è arrivato il momento di cercare la sua strada, di seguire il suo istinto e i suoi sogni. Ma non è facile capire che cosa desidera veramente e per chi batte il suo cuore. Charlie Parker invece sa benissimo che cosa desidera. Charlie ama Vren e la ama dal primo momento in cui l'ha vista. Ma Vren è bellissima, brillante e sexy e lui è sicuro che una ragazza così non potrà mai innamorarsi di un ragazzo timido e problematico come lui. Eppure il destino è scritto nelle stelle e quando la scuola finisce e arriva finalmente l'estate, Vren e Charlie si troveranno uno accanto all'altra. Per un momento infinito i loro corpi si toccano, le loro anime si sfiorano e sopra di loro il cielo sarà il magico testimone dell'inizio del loro grande amore.